Ciao, in questo video ti voglio mostrare come utilizzare Elementor Pro e senza installare alcun plugin aggiuntivo ottenere un effetto di questo tipo. Ossia, se utilizzi Elementor per creare il tuo sito e anche il menu di navigazione del tuo sito, ci sono casi nei quali vorresti mantenere fisso in alto il menu, ma vorresti ottenere un effetto di questo tipo, sia sfondo trasparente quando la pagina è, diciamo così, a riposo, e sfondo colorato, logo diverso e menu di diverso colore quando stai scrollando in verticale sulla pagina. Questo anche per permetterti di capire e apprezzare quanto è importante e quante possibilità si aprono imparando anche alcuni concetti come l'HTML, CSS, soprattutto capire il funzionamento di una pagina web. Iniziamo quindi subito a vedere come intervenire su questa nostra testata. Il primo passaggio è quello di intervenire sull'header globale, ossia sulla testata del sito creata con Elementor, questo elemento che in pratica ha lo sfondo trasparente. Per farlo vado nel back-end del mio sito e nella sezione template team builder di Elementor clicco e vedo che è presente un blocco header, ossia è l'header globale che ho deciso di applicare in tutto il sito. Quindi clicco e vado a modificarlo con Elementor. In questa pagina, in questo template non vedo niente, semplicemente perché? Perché questa testata ha il logo bianco e le voci di menu bianche e quindi qua vedi che non vedi nulla perché è tutto su sfondo bianco. Per semplificare un attimo il lavoro, all'interno di questo template vado in impostazioni e applico uno sfondo un pochino più scuro alla pagina. Ok? Così almeno vedo dove intervenire. E la prima cosa che devo fare è impostare la modalità sticky di questo menu, ossia per farlo restare appiccicato in alto quando scrollo verso il basso. Per farlo vado a selezionare la sezione relativa a questa mia intestazione, a questo header che ho creato per tutto il sito, e qua in modifica sezione, nella sottosezione avanzato, scelgo effetti di movimento, sticky, top, in modo che quando scrollo verso il basso questa sezione rimane appiccicata in alto. Posso decidere di abilitare questa impostazione su desktop, su tablet, su mobile o in questo caso lasciarla su tutte e tre le categorie di dispositivo. Una volta che clicco su aggiorna, vado poi a rivedere il mio sito, faccio un refresh e vedo che ora, scrollando verso il basso, vedi che la testata rimane fissa. C'è però il problema che essendo trasparente lo sfondo, vedi che quando sotto la pagina ha uno sfondo scuro riesco a vedere il menu e il logo, quando passo sullo sfondo bianco chiaramente non vedo nulla. Quindi è necessario effettuare un intervento. Prima però ti mostro uno strumento indispensabile quando fai questo genere di interventi a livello di codice con Elementor, ma non solo, generalmente quando lavoro a livello di codice su una pagina HTML. Clicco con il tasto destro del mouse qua sul logo e scelgo ispeziona. Io in questo momento sto utilizzando il browser Google Chrome, ma anche su altri tipi di browser esiste una funzione simile. Cliccando ispeziona, qua in basso si apre uno strumento che ti permette di verificare il codice della pagina e le relative regole CSS relative all'elemento selezionato. Ora io scrollo e ti faccio notare che non si modifica nulla in questo codice. Il fatto che nulla cambi all'interno di questo codice non è positivo perché a me serve che qualcosa cambi, che scatti una regola che mi permetta di intervenire su quando rendere scuro questo sfondo e quando farlo ritornare trasparente. Per fare questo devo quindi tornare qua nella modifica del mio header globale e dopo aver impostato la voce sticky verso top, devo scegliere come offset per gli effetti un intervallo, ossia una distanza dalla parte alta della pagina nella quale iniziare a far scattare gli effetti. In questo caso io avendo impostato comunque una testata che è alta 100 pixel come effetti di movimento sticky, scelgo come sticky e come offset per gli effetti 100, 100 pixel e clicco aggiorna. Ora torno qua sulla pagina, faccio refresh e inizio a scrollare. Mentre scrollo fai attenzione al codice sottostante. Vedi che qualcosa cambia e viene evidenziato con quello sfondo colorato. Quello che cambia è che quando lo stato della pagina è diciamo così a riposo, sia quando è tutto agganciato verso l'alto, qua non compare una determinata voce. Quando invece scrollo verso il basso, vedi che qua compare la classe Elementor-sticky-effects. Questa classe in pratica viene inserita da Elementor quando scatta l'effetto scorrimento e questa classe è quello che io devo andare a sfruttare e intercettare per far cambiare il colore dello sfondo. Come faccio a far cambiare il colore di questo sfondo? Semplicemente utilizzando una regola CSS. Per inserire questa regola CSS posso farlo in determinati punti, in diversi punti. Uno ad esempio è qua all'interno di Elementor, a livello della mia sezione, posso andare qua in avanzato e qua in basso, custom CSS, posso inserire le regole. Personalmente però preferisco centralizzare in un unico punto tutte le regole personalizzate usate sul sito. Quindi preferisco installare un plugin come ad esempio simple CSS che mi mette a disposizione un'intera area come questa che trovo qua nella sezione aspetto simple CSS dove posso incollare del codice CSS in maniera molto molto pratica. Un'altra possibilità è quella di inserire il codice CSS nel file, nel foglio di stile del tuo tema child. Io al momento utilizzo questo strumento. La prima regola che vado a inserire è questa che vado a incollare. Cosa fa in pratica questa regola? Semplicemente stabilisce che per questo elemento, meglio per l'elemento all'interno della pagina HTML che ha questa classe deve essere applicato lo sfondo di colore bianco. FFF è il codice esadicimale che rappresenta il colore bianco. Inoltre c'è questa scritta punto esclamativo important che forza l'applicazione di questa regola quindi la rende diciamo superiore rispetto alle altre. Una volta che ho inserito questa regola la salvo vado a vedere il mio sito faccio refresh scrollo verso il basso e vedi che non appena scrollo e viene applicata la classe quella che abbiamo visto prima eccola qua Elementor Sticky Effects quell'elemento appunto con la classe Elementor Sticky Effects diventa quello sfondo bianco. Quindi questo è il primo passaggio per effettuare questa trasformazione. Ma non solo ora devo andare a cambiare il colore del logo quindi devo aggiungere un'altra immagine quindi un logo in versione scura e fare in modo però che ne compaia solo uno alla volta quindi quando sono così voglio il logo bianco quando scrollo e compare lo sfondo bianco voglio che appaia il logo scuro. Per fare questo mi sposto qua all'interno della mia intestazione nell'header globale creato con Elementor e duplico questo logo quindi vado su questo blocco immagine che contiene il logo lo duplico e ne creo un'altra versione solo che in questo caso vado a cambiare l'immagine quindi scegli immagine vado a pescare un logo che ho già caricato che è identico a quello bianco ma questa volta in versione scura. Una volta che ho fatto clicco aggiorna e vado a vedere il mio sito. in questo caso vedo che i due loghi appaiono contemporaneamente e non è quello che voglio quindi ho bisogno di almeno un paio di regole CSS per andare a intervenire sulla visibilità di questi due loghi perché non possono apparire insieme. Un'altra modifica che devo fare è qua nella modifica del header andare qua sulla colonna che contiene le due immagini e come spaziatura widget impostare zero perché non voglio che sia presente alcuno spazio tra questi due widget tra le due immagini. Inoltre per andare a intervenire su questi due loghi ho bisogno di assegnare a queste due immagini a questi due loghi una classe CSS in modo da poter intervenire con precisione su uno e sull'altro quindi vado e seleziono su questa immagine vado in avanzato e qua assegno la classe logo light seleziono l'altra immagine vado in avanzato e questa la chiamo logo dark e aggiorno vado a rivedere temporaneamente il mio sito faccio un refresh e vedo che per il logo chiaro e per il logo scuro vedo la classe qua vedi logo light e qua logo dark già che ci sono tolgo lo sfondo scuro alla pagina perché adesso non mi serve più e qua comincia a darmi fastidio quindi torno qua un attimo e a livello di impostazione di questa pagina decido di eliminare questo sfondo ok aggiorna e siamo a posto vediamo refresh ed ecco che è sparito lo sfondo scuro però ho ancora il problema per risolvere questo problema devo quindi ora inserire le regole css per gestire la visibilità dei due biologhi mi sposto quindi qua all'interno della mia area dedicata al css e qua sotto vado a incollare delle nuove regole la prima regola nasconde il logo scuro in modo che quando la pagina viene caricata il logo scuro viene nascosto quando però si attiva questa classe ossia quando inizio a scrollare voglio che il logo dark il logo scuro sia visibile e che venga nascosto il logo chiaro salvo vado a vedere la mia pagina faccio refresh e vedi che ora il logo scuro è scomparso però appena scrollo verso il basso vedi che appare lo sfondo bianco ed ora ho l'altro logo un intervento simile lo devo fare sul menu solo che in questo caso non vado a creare due menu perché essendo il menu puro testo posso semplicemente creare una regola per cambiare il colore del menu non devo per forza crearne due per farlo mi sposto qua nel mio header di Elementor seleziono il blocco dedicato al nav menu ossia il menu di navigazione e aggiungo una classe specifica così ho un modo di andare a selezionare esattamente questo menu la classe la chiamo sticky menu e clicco aggiorna dopo aver fatto questo vado a inserire una regola per gestire anche il cambio di colore del menu quindi qua in basso incollo questa regola che in pratica va a intervenire sul link all'interno del mio menu ma solo quando si attiva lo scorrimento clicco salva vado a vedere la pagina faccio un refresh e vedi che ora il menu è completo allo stesso modo potrei anche decidere di cambiare i colori quando sono in questa modalità per renderli diversi rispetto a come adesso vedi che ora viene applicato questo colore e rimane bianco quando ci passo sopra col mouse quando invece scendo è viola il testo e vorrei che restasse bianco anche qua nessun problema mi sposto sempre nella sezione dedicata alle regole CSS e incollo una regola di questo tipo che va a intervenire quando il link è in modalità over quindi quando ci passo sopra col mouse e applico il colore bianco quindi clicco salva vado a rivedere la mia pagina faccio refresh e vedi che ora il link è bianco come hai potuto vedere imparando a conoscere come andare a intervenire sulla pagina come applicare le regole CSS quali applicare è possibile effettuare interventi più sofisticati senza installare plugin aggiuntivi al di là di questo esempio specifico relativo alla testata del sito il mio suggerimento è quello di imparare almeno le basi dell'HTML e del CSS approfittando anche dei numerosissimi tutorial e guide che si trovano semplicemente cercando su Google questo perché utilizzare Elementor senza conoscere almeno le basi di come è costituita una pagina web rischia di essere molto limitante soprattutto in caso di problemi non sai dove intervenire per sistemare le cose se hai trovato utile questo video ti invito a iscriverti al canale attivare le notifiche e ti do appuntamento al prossimo video a iscriverti al canale